Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. O Vergine Santissima del Santo Rosario, in quest'ultimo giorno della Novena, sono qui a lasciarti il mio cuore e il nodo che stringe la mia vita e non mi fa vivere bene. Scioglielo, ti prego, e rendimi libero da ogni male. Il tuo rosario sarà sulla mia bocca, tra le mie mani e nel mio cuore sempre, da oggi in poi. O Vergine Santissima del Santo Rosario di Fatima, nella quinta apparizione, non vi contentaste di ripetere ai vostri prediletti fanciulli. L'esortazione e la recita del Santo Rosario e la promessa del prodigio del prossimo 13 ottobre, ma voleste dare anche alle folle, che sempre più numerose, partecipavano alla scena della celeste conversazione, un segno della vostra presenza più impressionante del solito. Sotto la forma d'un globo luminoso tutti vividero discendere dal cielo e, dopo il materno colloquio con i Re Bimbi, risalire per le vie del sole, mentre dal cielo piovevano candidi aerei fiori evanescenti. Così vi compiacere di incoraggiare la nostra debole fede. O mare buona, vi ringrazio del dono ineffabile della Santa Fede, oggi da tanti errori e da tante seduzioni, insidiato. Fate che sempre conserviamo sottomessa la nostra mente alle verità da Dio rivelate e che la Chiesa ci propone a credere, senza bisogno di attendere i prodigi, così da meritarle roggio di Gesù, beati quelli che crederanno, senza bisogno di vedere. E per questo riprendiamo la preghiera dell'Angelo della Pace. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non vi amano. Nostra Signora del Rosario di Fatima, prega per noi. O Vergine Regina del Santo Rosario, tu che sei la figlia del Padre Celeste, la madre del Figliol Divino, la sposa dello Spirito Santo, tu che tutto puoi presso la Santissima Rinità, devi imperarmi questa grazia, tanto a me necessaria, perché non sia di ostacolo alla mia salvezza eterna. Si ripeta la grazia che si desidera. Te la domando per la Tua immacolata concezione, per la Tua divina maternità, per i Tuoi gaudi, per i Tuoi dolori, per i Tuoi trionfi. Te la domando per il cuore del Tuo amoroso Gesù, per quei nove mesi che lo portassi nel seno, per gli stenti della Sua vita, per la cerba Sua passione, per la Sua morte in croce, per il nome Suo Santissimo, per il Suo preziosissimo sangue. Te la domando per il cuore Tuo dolcissimo, nel nome Tuo glorioso, o Maria, che sei la stella del mare, Signora potente, madre di dolore, porta del paradiso e madre di ogni grazia. In Te confido, da Te tutto spero, Tu mi hai da salvare. Amen. Nostra Signora, del Rosario di Pompei, prega per noi. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A Te ricorriamo, esuli figli di Eva. A Te sospiriamo, gemente e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi Tuoi, misericordiosi, e mostraci, dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Pensiero del giorno. Spesso può capitare di non riuscire a pregare e contemplare il Rosario come vorremmo. Oltre ai possibili vincoli di tempo, ci sono anche le consuete difficoltà di attenzione. Cerchiamo di considerare l'Ave Maria che compongono i misteri, ma la nostra mente a volte vaga verso altre questioni che ci occupano. Possiamo trarre con forte incoraggiamento da queste parole di San Giuseppe Maria. Non vedi come nella vita normale anche i bambini più giudiziosi si svagano e si divertono con quanto li circonda, senza abbatare spesso ai ragionamenti del loro babbo. Ciò non significa mancanza di amore o di rispetto. Si tratta solo della miseria e della piccolezza proprie del bambino. Ma nessun rosario, per quanto recitato con difficoltà, andrà mai buttato. Ogni Ave Maria diventa una rosa che, presa dagli angeli, viene portata alla Vergine Maria. Ti stupirà sapere che questo è avvenuto a tutti i grandi santi. La difficoltà nella preghiera, la distrazione, l'aridità, a volte la tristezza, ma non si sono mai fermati. Hanno pregato rosario sul rosario e hanno vinto con Maria. Tutto. Alzatevi con il rosario in mano, anche piccolo. Camminate con il rosario in mano, in tasca, al collo, in macchina. Addormentatevi con il rosario sotto il cuscino. Tutto sia rosario e Ave Maria, il maligno, non potrà più toccarvi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dillo Spirito Santo.